Si chiama Tutti in Riga come litigare in modo efficace sulle regole educative in famiglia. È un percorso di quattro incontri per genitori messi in campo dal comune di Porto Mantovano. Il primo incontro è giovedì e sono invitate 1700 famiglie. È un progetto condiviso con le scuole, è un progetto condiviso con l'Associazione dei Genitori che va verso un percorso educativo di società, diciamo, educante e che si svolgerà nell'ambito di quattro settimane. Con incontri gestiti dall'Associazione APRUA, l'Associazione per la responsabilità umana in azione che è una derivazione dell'Associazione sulle regole di Gerardo Colombo. Il progetto educazione alla legalità, la cittadinanza attiva e il rispetto delle regole inserito nel piano di diritto allo studio è partecipato ad un bando regionale e tra una quindicina di giorni si avrà l'esito. In tutto il percorso durerà tre anni e dopo i genitori coinvolgeranno anche le scuole nel prossimo anno scolastico e i docenti. Anche per l'estate sono previste una serie di iniziative dedicate ai ragazzi dei 16 ai 18 anni. Un percorso intergenerazionale quindi che ha la base al concetto che l'educazione è il migliore investimento che una società possa fare, da cui la volontà dell'amministrazione comunale di proporre questo percorso. Questa amministrazione vuole investire molto sui giovani, sui ragazzi, ma per il futuro e quindi l'educazione alla legalità, al rispetto delle leggi, alla democrazia, alla partecipazione sono tutti concetti che noi vogliamo portare avanti e siccome vediamo che soprattutto nel mondo dei ragazzi queste cose spesso sfuggono e non sono tenute nella debita considerazione, noi vogliamo fare proprio questo impegno perché anche i ragazzi possano capire che è bello anche il rispetto delle leggi, il rispetto delle persone e partecipare perché partecipano a tante cose che possono essere magari anche cose ludiche, sportive, eccetera, ma alla vita civile partecipano molto poco. Ma perché il primo passo è proprio quello dei genitori? Siamo partiti dai genitori perché riteniamo che la famiglia sia il nucleo portante dell'educazione e della legalità in quanto educazione al rispetto delle regole, ad una modalità di approcciarsi alla vita civile che sia permeata, oltre che di regole, anche di una consapevolezza che si può svolgere dapprima all'interno della famiglia. Il primo appuntamento con tutti Enrique per giovedì alle 18 all'auditorium della Scuola Media Monteverdi.